Musica Hey piccoli Steve, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in un gameplay sul mio cellulare e siamo sul sistema Android Oggi ragazzi voglio portarvi un gameplay diverso dal solito Perché non avendo molto tempo per poter registrare Minecraft tipo la events first Che volevo fare stamattina ma non l'ho fatta per vari motivi Ad esempio il modpack di ieri che non funzionava ho voluto provarlo infatti ci ho giocato un pochino Ed è un gran bel modpack Oggi ragazzi voglio portarvi questo gameplay su questo giochetto molto scleroso tra poco Vedrete piano piano Allora cosa dobbiamo fare in questo gameplay? Praticamente ragazzi dobbiamo provare a far camminare questo nostro daddy Il nostro mostro stranissimo che poggia su delle gambe lunghissime Portarlo e fare più metri possibili Il mio record non lo so se lo vedrò No naturalmente quel numero con la stellina non c'entra niente con il record Poi si vedrà non lo so comunque tipo 29 non lo so Oddio Se proviamo a andare più avanti a... Se riusciamo a fare un nuovo record sarebbe bellissimo Comunque cosa consiste? Oddio un regalo Vabbè lo prendo uguale però non mi serve a nulla A parte i regali non sono mai andato a vedere cosa sono Comunque sto facendo questo gameplay perché ragazzi appunto Non avendo avuto tempo a giocare il... Oddio a giocare la events first perché stavo giocando appunto il modpack che mi avete proposto nella live di sabato Per chi non sapesse ho fatto una live sabato E anche domenica Anche se quella di domenica si può dimenticare tranquillamente perché non si può chiamare live assolutamente Quella di sabato doveva essere una live a casaccio Proprio provare a non... Provare a vedere che impostazioni mettere e tutto quanto Alla fine è diventata una live dove ho fatto un tutorial su come mettere i snapshot Ho fatto... Siamo andati a vedere lo snapshot L'ultimo snapshot uscito Il 15W35E In questo momento Ora non mi ricordo se... Non so se... Non ho controllato se... C'è un altro snapshot Comunque questo gioco veramente è... Oddio, 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 no È veramente molto... Devi pazientare, devi sapere quando mettere le gambe Quando... sì, quando fare il passo diciamo E non è appunto una cosa molto semplice Infatti ci vuole parecchio E... Cerco di concentrarmi No, non ce l'ho fatta, era una cosa troppo difficile Sono a 510 cadute E... dovete capire sto giocando da... Ehm... Cioè questo gioco non lo gioco da un po' Scusate il gioco di parole Ma vabbè È normale Questo gioco di parole ormai è normale per chi fa gameplay Per chi fa giochi Quindi... Penso che sia la linea gialla Il livello... Oddio, i metri massimi che ho fatto Il record massimo E non lo vedo 2240 dovrebbe essere il secondo posto Oddio Dai, cerchiamo di concentrarci Non è affatto Semplice Perché Devi sapere quando mettere Quando Fare il passo Comunque l'ombra è un cerchio Non ha molto senso Cioè È una sorta di... Hanno copiato le ombre da Minecraft Questi Oddio Oddio mio No, no, no Non ci credo Non ci credo No Se andavo davanti Avevo qualche possibilità di fare un nuovo record Oh mio dio Ok, adesso farò le cose fatte proprio malissimo Comunque Per chi se lo chiedesse Questo gioco lo trovate sul Play Store È gratuito Volevo dire gratis Ma vabbè ho detto gratuito È un gioco che quando non avete nulla da fare Potete giocarci tranquillamente E poi Per non arrivare però allo sclero Perché quando si arriva allo sclero Fa male Grazie per aver partecipato alla live di sabato Che è stata davvero molto bella Anche se la live In sé per sé Nel senso di qualità video Non era il massimo È stato bello Perché c'eravate voi Avete animato la live Allora mi sto No, sto per dirmi Mi sto concentrando Comunque grazie tante Avete fatto Avete detto Barzellette Che non si possono sentire seriamente Cioè Solo poca gente può dire Con le barzellette pazze Che veramente Non capisco Siete In questo momento Non mi vengono neanche in mente Quelle barzellette che avete detto Però Caspita Se Dite barzellette davvero stranissime Dai però Non posso Fare questi fail assurdi in continuo Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei No Mannaggia Uno Due Tre Quattro Cinque No Se vedete che resetto Magari qualche volta sbaglio pure Come ho fatto prima Però perché Capisco che lui cadrà E non ha alcuna speranza Anche se Come sempre La speranza è l'ultima a morire In questo caso no Non ci stanno speranze Vedete Lo sapevo Ditemi se vi piacciono I gameplay sul cellulare Non ne porterò Tanti gameplay Ogni tanto Quando non ho tempo Per registrare Un gameplay Direttamente dal pc Tipo la events first Che volevo registrare Però Alla fine Mi sono Messo A giocare Oddio Perché sono cadute Quelle cose Sì che alla fine Vabbè Mi sono messo a giocare Appunto A quel modpack E quindi Non vi voglio portare Una serie Perché già ho Tante serie Aperte E devo capire Che c'è un limite Alle serie Non voglio Portarvi Tante serie E poi non finirle Perché Hai ragione Quando dite Jack ma hai tante serie Aperte E tu non La finisci Non ne finisci Neanche una Sì avete ragione Infatti è così No mannaggia Ed è vero Perché Io Non riesco Ad andare avanti Perché Ci sono Varie motivazioni Ad esempio Mi accade Che La serie Magari non è seguita Non è seguita E se a me piace Io la porto Ma ad esempio Far Cry Che Mi deve proprio Venire voglia Di giocarlo Perché io Avevo già giocato Far Cry Per un po' di tempo Senza che ve lo mostrassi E quindi Già Non mi va molto Di rigiocarlo Mannaggia Guardate che fail Seriamente Non mi va di rigiocarlo Se non è molto seguito Cioè l'ultimo No Perché ho fatto quella cosa L'ultimo episodio Ho avuto 4 like Seriamente ragazzi Posso capire che magari Vi piace Minecraft E comunque il canale È fatto È basato su Minecraft Però ci speravo Che potesse Essere bella Anche una serie Su qualche altro gioco Ad esempio Però Portal Vi piace Discretamente Vedo che vi piace A me piace tanto Quindi io lo porto Comunque E vabbè Oddio Non riesco a fare Il record Sì l'ho fatto il record Ho fatto il nuovo record Sì Oddio Di pochissimo Ma la gamba Mi ha aiutato Proprio Oh mio dio Ragazzi Va bene Ho fatto il record Vi ho detto un po' di cose A volte l'ho anche ripetute 20 volte Infatti Penso che Taglierò le parti Dove le ripeto 20 volte Comunque ragazzi Finiamo qua Con questo nuovo record 30,97 metri Ditemi se vi piace L'idea di questi gameplay Proponete voi Dei giochi Che ci sono Su Android Niente ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Io vi auguro un buon game Piccoli Steve Che ci vediamo al prossimo video Che vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti